Aspetti quel giorno per anni, esame dopo esame. Te lo immagini con amici e parenti pronti a festeggiarti, ad abbracciarti, ad applaudirti. Ma per i laureandi al tempo del coronavirus non è andata così. Seduti davanti a un pc o a un tablet hanno dovuto discutere la tesi, non in facoltà, ma soli in una stanza della propria casa. Docenti da una parte, studenti dall'altra, divisi da uno schermo. È in questo modo che mercoledì si sono laureati in infermieristica tre ragazzi e tre ragazze dell'Università Politecnica delle Marche che hanno seguito il corso nella sede di Pesaro. Come presidente dell'ordine sono veramente felice perché siamo reduci dalla sessione di laurea ed è una laurea speciale perché è avvenuta online. Una laurea ai tempi del covid provoca anche delle emozioni sicuramente diverse. Come è stata vissuta questa esperienza? Un'esperienza particolare, devo dire, sia per i laureati e anche per la commissione stessa perché sicuramente eravamo abituati a applausi, agli entusiasmi comunque dei loro familiari, vederli nel viso. Ha un aspetto sicuramente diverso, un pochino più spento, un pochino più triste, ma questo non deve demotivare perché è una laurea a tutti gli effetti, hanno superato brillantemente la loro sessione e sono ragazzi pronti ad essere messi sul campo e sull'attività. Gli infermieri in questo periodo storico sono stati definiti anche degli eroi, per cui speriamo di vedere anche questi ragazzi il prima possibile in corsia. Sì, sono stati considerati degli eroi, gli infermieri, anche se obiettivamente non siamo degli eroi, siamo dei veri professionisti. Forse siamo stati eroi dei veri superman quando all'inizio non ci aspettavamo questo stato di gravità e forse siamo stati messi ad affrontare una situazione non con tutte le congre protezioni. Oggi le abbiamo, stiamo lavorando e quindi siamo orgogliosi del lavoro che portiamo avanti. Purtroppo però non mancano le critiche. Sì, le critiche alla professione in questi due o tre giorni le sto vedendo, le sto leggendo anche sui social, mi arrivano comunicazioni all'ordine, di questo sono molto dispiaciute. I cittadini devono stare tranquilli perché oggi più che mai proprio gli operatori sanitari, in questo caso gli infermieri, sono portatori di salute, sanno come non prendere il virus. Quindi sono persone su cui ci si può fidare altamente. Che cosa è stato messo in discussione nello specifico? Ah, leggevamo cartelli, siete portatori di virus, nel nostro condominio state attenti voi che portate il virus. No, noi non portiamo il virus, noi lo combattiamo e siamo quelli che sono in grado di saperlo gestire. Ecco appunto, ribadiva e sottolineava questo aspetto della professionalità, per cui un grande in bocca al lupo intanto ai ragazzi che si sono laureati ieri, sicuramente dei professionisti. Grazie, speriamo di vederli presto sul campo perché sono italiani e a differenza di chi arriva dall'estero sanno parlare l'italiano. Grazie a tutti. Grazie.